Allora, un salve a tutti da Philips89, siamo qua sul patio di dottrine. Vediamo cosa fare in questa missione. Ah, ci sono due edifici. Bene. Andiamo qui. Ah, ci indica pure il percorso che potrebbero fare. Va di qua. Molto bene, molto bene. Passiamo nel turno. Allora, vediamo il da farsi. Va di là, ma di qua non c'è porta. Allora, vediamo il percorso. Andiamo di qua. No. Allora, vediamo il da farsi. Va di là, ma di qua non c'è porta. Allora, vediamo il percorso. 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 E si è persa una parte di registrazione, vi chiedo scusa. Allora, vediamo il percorso. 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 Vediamo il percorso. vediamo il percorso. Allora, vediamo il percorso. Passiamo il turno. Voglio raccogliere tutti gli oggetti. Ormai la missione è finita. abbastanza semplice quando hai la gente che riesce a stordire gli agenti nemici chi sarebbe? ah ok allora noi andiamo a nasconderci di qua ordine è vero ordine è vero Ok, passiamo di nuovo il turno Alcune guardie, quindi c'è un agente E dov'è? Ok, passiamo Copy Siamo stati stendendo? Siamo stati stendendo? Siamo stati sicuri? Allora abbiamo capito che c'è un altro agente nemico Quindi noi ci nascondiamo di qua Il condottore andiamo a scoprire dov'è Con lei prendiamo l'oggetto Il documento, scusate E passiamo il turno Se riusciamo catturiamo pure l'altra gente Anzi facciamo una cosa molto più intelligente Proviamo ad andarci Accontentiamoci di quello che abbiamo Allora 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 I'm here Can you make up your mind already? Allora 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 Sperando che questa G-Vela non ci scopri Io per sicurezza Lo abbatto Ok scappiamo Sperando che Sperto Continuo Nemico smascherato Scusate La gente vite è stata interrogata e poi eliminata Vediamo se abbiamo nuovi No non abbiamo nuovi fascicoli Le abbiamo completate tutti Bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Allora compra o vendi. Il fucile di precisione non servirebbero a molto. 600. Andiamo nel calzario. C'è un agente. No, non c'è un agente. No, non c'è un agente. Andiamo avanti nella storia L'informazione Della nostra gente Ok Ispezione Non abbiamo fascicoli Bene Ritorniamo nella mappa No, ho sbagliato Gli informatori vengono scoperti più... Ah, ecco Cosa abbiamo qui? Facciamo questo Vai all'assalto, sì Allora Usiamo il travestimento con lei Equipaggiamento Possiamo Possiamo dargli qualcosa? No No Avvia missione Le telecamere dove sono? Di qua Ma noi contando che abbiamo un agente infiltrato Partiamo da qua Non Lone enemy operative, eliminate or capture, keep it quiet if possible. Hmm. Allora, innanzitutto prendiamo l'oggetto, visto che ce l'abbiamo a portata di mano. Vediamo bottini 4, documenti 2, un altro bottino addico. E non sarà una missione molto facile, uccide o cattura l'agente nemico. Però è solo uno. Ah, un altro documento è di qua. Bene. L'episodio è giunto al termine. Questa missione sarà molto più difficile perché abbiamo solo due agenti e nessuno di loro, come possiamo vedere, ha il colpo più forte, diciamo, per catturare la gente. Quindi può darsi pure che vengano scoperti, cioè che l'identità venga scoperta, poi dovremo fare il falsario, eccetera, eccetera. Comunque, vi stavo dicendo, l'episodio è giunto al termine. Se vi è piaciuto, come al solito, vi invito a lasciare un like, commentare, condividere ed iscrivervi se non l'avete già fatto. Un saluto da Philips89, alla prossima. Ciao!